È legittima la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di non confermare Roberto Rossi alla guida della Procura di Arezzo, questo quanto stabilito dalla prima sezione del Tar del Lazio. Il Tribunale Amministrativo, con una sentenza depositata il 19 giugno, ha infatti respinto il ricorso dell'ex procuratore che chiedeva che fosse annullata la delibera con cui il plenum di Palazzo dei Marescialli lo scorso 24 ottobre aveva detto no alla sua permanenza nell'incarico direttivo. Al magistrato PM del caso Banca Etruria venne infatti contestato di aver mantenuto l'incarico di consulenza con il governo ai tempi di Letta e Renzi anche dopo l'avvio delle indagini sull'Istituto di Credito Aretino. Il nodo della questione è riferibile alla presenza di Pierluigi Boschi nel CDA di Banca Etruria, padre dell'allora ministro Maria Elena. Anche il guardasigili Alfonso Buonafede all'epoca non aveva dato il suo concerto per la riconferma del magistrato nell'incarico di vertice dell'ufficio giudiziario Aretino. Decisione adesso ritenuta legittima anche dal Tar. Il PM Roberto Rossi adesso potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio.